la cucina di orto qui presenta i rossi di patate saporiti preparati con la patate della valle incantata gli ingredienti per questa ricetta sono patate della valle incantata parmigiano grattugiato speck olio extravergine di oliva sale e pepe cominciamo sbucciando le patate le sciacquiamo sotto l'acqua ora le grattugio ora le trasferisco in un setaccio per eliminare tutta l'acqua in eccesso le condisco con il parmigiano un po di sale un po di pepe trito dello speck al coltello ed ora lo inserisco all'interno delle patate un filo d'olio e siamo pronti per la cottura un filo d'olio in padella che vado ad aromatizzare con un rametto di rosmaria compongo il mio rosti io utilizzo un ring o un coppapasta lo appoggio nella padella aggiungo le patate poi lo sfido lascio cuocere il rosti per almeno 5 minuti e poi lo giro utilizzo del lattughino come base ecco pronti i miei rosti di patate saporiti per questi rosti abbiamo usato la patata della valle incantata proveniente dalla lombardia buon appetito da orto qui la cucina portata di tempo tasche e territorio